Se avessi saputo della presenza di alieni sul nostro pianeta, avrei avvisato gli americani. Bill Clinton ci ha anche scherzato sopra, ma nell'intervista concessa nel programma di Jimmy Kimmel, trasmesso dalla ABC, lo ha spiegato con precisione. Durante il suo secondo mandato, l'ex presidente chiese espressamente al suo staff di visitare la base segreta del Nevada, l'area 51. Ho fatto controllare che non ci fossero alieni, ha spiegato Clinton, e non ce ne erano. Quanto al caso Roswell, l'incidente del luglio 47, quando, secondo molti, un'astronave aliena si schiantò nel deserto del New Mexico, Clinton ha giunto di aver fatto controllare tutti i documenti in possesso della Casa Bianca. Anche in questo caso, niente. Non sarei sorpreso se un giorno ci dicessero che non siamo soli nell'universo, ha chiuso l'intervista all'ex presidente. In quel caso, spero solo che non sia come in Independence Day.